In stato di agitazione, dopo l'escursione dalla perequazione, i dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono scesi in piazza dinanzi alla Prefettura di Salerno. Alla base della protesta ci sono questioni che si trascinano da anni, come la carenza di personale, ma nello specifico l'esclusione dalla bozza del DPCM che prevede l'armonizzazione delle indennità di amministrazione per tutti i dipendenti dei ministeri, il personale delle agenzie e dell'ex comparto ministeri. Con tutti i sindacati di categoria, CGL, Cisle e Will, stamani una delegazione del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno è stata ricevuta in Prefettura, dove hanno presentato un documento, mentre le iniziative di protesta culmineranno nello sopero nazionale proclamato per il 18 marzo. Siamo scesi qui in assemblea con presidio presso la Prefettura tutti i dipendenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, che aderiscono allo stato di agitazione proposto a livello nazionale da tutte le sigle dell'Ispettorato nazionale. Siamo in stato di agitazione dal 21 febbraio al 25, abbiamo adottato una serie di iniziative promuovendo un'ora di assemblea al giorno per protestare contro il mancato riconoscimento dell'indennità di perequazione e dell'indennità di amministrazione che è stata corrisposta a tutti i dipendenti del ministero tranne che a noi. In realtà come agenzie nate nel 2017, noi siamo agenzie nate a costo zero, a cui si è sempre applicato il contratto ministeri, quindi non riusciamo a capire il perché e le ragioni di questa esclusione che è illegittima ed è sperequativa, quindi c'è una sperequazione con uno sciopero di tutto il personale nazionale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Noi siamo un Ispettorato che garantisce e tutela i diritti dei lavoratori e vogliamo che il riconoscimento anche a noi di questa tutela da parte del Governo e dell'Ispettorato nazionale. Quanti sono i lavoratori interessati da questa assenza in busta paga dell'indennità di pereguazione? Sono oltre 4.000 lavoratori in tutta Italia. In provincia di Salerno? In provincia di Salerno siamo 78, c'è da dire che noi stiamo lavorando da anni con una forte carenza d'organico, quindi abbiamo un carico di lavoro a dir poco aumentato e con competenze anche se aumentate, tant'è che sono state aggiunte nuove competenze in materia di sicurezza del lavoro e in questi anni, poi in questo periodo di pandemia, abbiamo dovuto affrontare anche il controllo dei protocolli anti-covid presso le aziende, quindi è un lavoro accresciuto con un personale invece diminuito sempre di più per la mancanza di turnover. Presenterete un documento al Prefetto? Sì, presenteremo un documento al Prefetto con la speranza che il Governo e l'Ispettorato nazionale riconosca le nostre legittime ragioni e chiediamo anche aiutenti e ai cittadini di sostenerci in questa lotta.